Allora, allora, la nostra Costituzione c'è un articolo che è un articolo che è più importante, è compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale perché impediscono il pieno sviluppo della persona umana, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo, dare la scuola a tutti, perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, ma non si potrà chiamare neanche democratica, neanche democratica, neanche democratica, neanche democratica, neanche democratica. Grazie a tutti.